Gli aggiornamenti del resoconto di oggi riguardano la direzione di Toresk. Qui le forze russe hanno cercato di avanzare da due vettori, nel fianco nord della città e nel centro città. Le forze ukraine hanno risposto lanciando contraattacchi e respingendo i russi fuori dalla parte nord di Druzhba e li stanno ora scacciando dal centro di Toresk. Nel fianco nord, le forze russe stanno cercando di prendere il controllo della città di Druzhba. Controllarla è essenziale, in quanto permetterebbe alle truppe russe di avere una rampa di lancio per avanzare verso nord e accerchiare in parte Toresk. Per contrastare questi tentativi e la realizzazione del piano russo, il comando ucraino ha ordinato diversi contraattacchi. Di recenti combattenti ucraini sono riusciti a indebolire le posizioni russe nella parte nord di Druzhba con continui bombardamenti di mortaie e droni prima di avviare le operazioni in città. I danni subiti dagli edifici in quest'area hanno costretto i combattenti russi a fuggire, ma così facendo si sono esposti all'avanzata ucraina. Una piccola squadra di tre russi si è ritrovata assediata in un sotterraneo, mentre il resto delle truppe, rimaste all'aperto, è stato eliminato dai droni ucraini. Le forze ucraine hanno quindi convinto quelli rimasti nel sotterraneo a uscire e a rendersi. Il video originale non censurato è disponibile sul nostro Telegram, il cui link è nel messaggio in evidenza. Controllando il nord di Druzhba, le forze ucraine eviteranno che i russi possano lanciare attacchi sui fianchi di Toresk. Nel frattempo, i prigionieri di guerra potrebbero rivelare importanti informazioni sui piani russi, degradando ulteriormente le pianificazioni del comando russo. Nel centro di Toresk, le forze russe sono entrate nel distretto dei palazzi, facendo scoppiare feroci combattimenti nell'aria. Il loro scopo è quello di mettere in sicurezza gli edifici e stabilire controllo di fuoco sulla zona ceocostante. Ottenere questo obiettivo permetterebbe alle truppe russe di avanzare lungo veicolo a 3 maggio e dividere le difese ucraine a metà. Questo in coordinazione col fiancheggiamento da nord. Dopo che le forze russe sono entrate nella parte sud del settore dei palazzi, sono scaturiti combattimenti con le forze ucraine. Una volta che i russi sono riusciti a stabilire posizioni in uno degli edifici, gli ucraini hanno schierato un drone terrestre trasportante esplosivo per sfondare un muro, colpire le posizioni russe e lanciare un contrattacco. Immagini della brigata Liut mostrano uno scontro ravvicinato. Il combattimento è poi disceso in uno scontro piano per piano. Un soldato russo ha cercato di fuggire arrampicandosi sui balconi, ma è tragicamente caduto dal sesto piano. La natura dinamica dei combattimenti non permette ai russi di controllare completamente l'aria, lasciandola contestata. In più, il fallimento nello stabilire un controllo di fuoco ha permesso alle forze ucraine di condurre missioni di ricognizione lungo la strada centrale, dietro le linee russe. Questo ha costretto i russi a concentrarsi sullo stabilizzare questa nuova situazione, espandendo il controllo intorno alla strada centrale e avanzando verso via Darvina e Pusharenko. Avanzata facilitata inizialmente dal fatto che le posizioni ucraine nell'aria erano in case più piccole, ma successivamente fermata dagli ucraini. In generale, il piano di una veloce avanzata verso Toresk e dividere le difese ucraine in due sacche è stato cancellato a causa dell'inaspettata resistenza ucraina e dai contrattacchi a Druzhba. Incontrando difficoltà nel catturare i palazzi, il comando russo ha ridiretto truppe per proteggere i fianchi lungo la strada centrale ed evitare un collasso dal fronte. I contrattacchi ucraini hanno fermato l'offensiva russa dopo mesi di lenti progressi. Il fronte si è quindi stabilizzato e l'iniziativa è tornata in mano agli ucraini. Se siete contro l'invasione dell'Ucraina e volete supportare il nostro lavoro, potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potete trovare numerosi prodotti riportanti i simboli ucraini per mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ucraina. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.